Godin ha svolto le visite mediche Il primo ne aggiungo Quando fanno il contratto lo devono fare Vabbè Colpaccio Allora Manicomio Nuketown Case Sceglietevo E un nuketown si può fare Si Oppure un faro da ammazzare il proprio No vedi che fare l'ultima cosa Eh si però comunque ci passi Vanno Andiamo gli stai Anche un ice jack si potrebbe tentare Ma giù vuoi andare? Dove è più libero? Io vado su vicino al cartello No Non si è aperto presto Aggiornamento Rilevato possibile collasso Consigliato trasferimento nella zona sicura indicata Allora Addirittura moto tattico Allarme Lancio di rifornimenti in avvicinamento Siamo sette raga Stanno qui ciò qualcuno Stanno qui ciò qualcuno E' sceso ucciso arriva l'altro ucciso e come mi chiamano io siamo 4 arriva l'altro campione altro campione dai ma è vero no mi ha ucciso il campione abbiamo ammazzato di tutti è arrivato il cordione di tu dove sta? giù? giù si aspetta dove sta? michael praticamente sta verso l'uscita dove non si è entrato ok ma che dici aspetta qua io andrei lì perché comunque è da solo mi stai vedendo? si si vai 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 aspetta attenzione allora sta oltre il corridore e arriverà qua là sta l'hai visto? se mi dici lo buscio io aspetta dove stai? magari entra dalla parte opposta e lo beccate si Ivo vai dalla parte opposta vi dico io quando entra inizia resisti ti arriva Ivo da dito tu fregalo cioè ingannalo ma qua ti puoi buttare anche direttamente vai 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 ti ho detto aspetta vai 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 per uccidere ok ne sono due Ivo ne sono due che stanno venendo eh sono due sono due sono due o quello che rispiuco sono due muoto no troppo alto meno male bravo bravo ho tutti questo torniamo qua comunque qua si chiude si è possibile è possibile quando è così però torniamo qua giusto per riprenderci per questo e se no o meno sei l'ulto allarme lancio di rifornimenti in avvicinamento no 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 grit no 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 devi devi Siete voi? Sì Eccolo Ho lo zaino Ma che velocità Ho sbagliato Mi serve uno zaino Ma comunque sei deficiente eh Chi è? Mi stavo a mettere sotto sto cretino Comunque c'è che c'è due forestier Questa è una corazza a due Tieni tutti e due, usavi tutti e due C'è comunque No no no, senti a me Sai come li devi usare? Forestier tu lo usi alla fine Invece tu usi il primo quando stai un po' distante dalla safe E poi usi il secondo dopo Comunque si chiude qua Non andate via Per favore Collasso del cerchio imminente Porca sia assoluto Se ne avrei un mirinato il cerchino Che sta? Poche zaino Datemi un mirinato il cerchino E' una corazza con la coracola Vedi se c'è un cerchino raga Che c'ho il core scatato Tranne il Cazzo del mirinato Arriva qualcuno con la nave Non lo so Allarme Lancio di ritorno in avvicinamento Stupezza, d'ammarzo Lo sto frenendo, ho ferito L'ho ferito L'ho ferito Ma dai lo sto frenendo perchè riesco a sparare in avanti torna mi chiamo più su ragazzo trovate un cecchino non basta più niente la ripulito tutto la ripulito tutto lo zai non vuole di arrestare che è successo? andiamo giù campieriamo no non si chiude giù ma qua rischiamo solamente si chiude su quelle montagne è giusto per non stare qua l'arriva aperto non mi fessi c'è un cazzo di 1.200 questi rumori vengono da giù ci sta qualcuno giù? no è arrivato un camion collasso del cerchio imminente portassi al sicuro sta qualcuno giù comunque sento i passi metallici non sta più nessuno comunque raga raga dov'è? vedo spari fatti il cerchio ora che stanno giù alcuni sento proprio i passi metallici attenzione 1 è caduto qua la vostra destra che sta hai lasciato qualcosa? andiamo giù questa nostra squadra ma che è quasi chiude ma pure che si chiude qua, quelli che stanno giù stanno con noi e ci uccidono andate con noi qua, oh sta qua un altro occhio che curva attenzione non andate sotto oh lasciatemi una corazza per favore ah no ce l'ho ce l'ho intendevo qualche granato intendevo granato grazie facciamo c***o fotografia no 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 basta la fotografia vedi ah ecco grazie no più che altro non avevo niente andiamo a campierare dove sta Tor e comunque si chiude qua ho già fatto una partita del genere se stiamo sulle rocce vinciamo perché abbiamo il vantaggio in altezza andiamo dove sta Tor ah c***o c'è uno con la pistola qua c***o guarda uoco capo per forza c***o dai stiamo qua vuoi elicottero? mi sembra solo un altro headshot per sbloccare i medici ho quello che mi ha sparato headshot non sta a finire un headshot ma dove sta questa? arrivano oh si è boccato raga sta quasi salendo con la pistola andiamo andiamo che so paura non siamo al centro tu hai capito quando ti arriva la safe qua usa il primo forestiero poi usi il secondo dopo no 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 senti fidati di me hai fatto la cosa migliore bravo raga mi serve un edwin un headshot giocano ma un metro fauna avete così per riparare la corazza io passamene qualcuno ti vedete 335 avete le 762 eh no io ne ho 30 munizioni contate c'è solo un forestiero raga perché io ve l'ho lasciato ma sei un cretino che hai ce l'ha finito di niente oh ragazzo su cosa qua c'è il cerchino un attimo un attimo un attimo vai vai sfida dove hai visto il tuo cerchino? ehm a nord e ma perché stai mirando a dest oh li vedi è terreno fertile terreno fertile ok c'è l'altro siamo 8 sotto di noi sotto di noi sotto di noi oh sto qua sto qua sto qua alza ti cura ti cura usa il forestiero usa il forestiero usa il forestiero ucciso ucciso no che cazzo lutti ucciso io ho fatto il forestiero di 30 anni raga guattino come è ina destra mento come è ina destra mento mi... 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 mi mancava un cazzo di headshot per fare la mimetica per il corso questa è giocata bene questa è giocata bene ah perché gli sono andati a 3 e 4 quindi esatto sono andati a 4 sono andati a una zona al centro era buona la zona spero me lo senti